Voglio rendere questo post-gara, il Gran Premio del Singapore, un po' monotematica perché bisogna giustamente celebrare la vittoria di Carlos Sainz che finalmente vince una gara. In realtà non è la prima volta perché l'anno scorso nella Gran Bretagna ha visto il suo primo successo ma direi che oggi è stata una vittoria conquistata, costruita sia dal venerdì ovvero dalle prove libere ma personalmente parlando dal punto di vista proprio personale per Sainz una vittoria preparata da tempo. E come vi avevo affermato nelle precedenti puntate di un pilota che ha ora un momento di forma eccezionale, un momento di lucidità eccezionale che le ha regalato non solo la pole a Monza ma una prestazione di tantissimo rispetto con il podio e la lotta con le Red Bull. Oggi nel Gran Premio del Singapore Sainz non solo ha vinto ma ha smargiassato come fanno i simpaticissimi commentatori di Sky. E' stata una vittoria smargiassa perché addirittura verso fine gara, a fine gara, si è permesso il lusso di rallentare appositamente per mettere nella finestra di chi insegue sotto il secondo per permettergli di aprire l'ala e non permettere a sua volta chi stava dietro, chi era secondo per Honoris, chi era dietro in quel momento Russell Hamilton per non farli avvicinare. Oggi Sainz temeva più le Mercedes, secondo me Norris è stato globalmente sottovalutato un po' da tutti perché era il pericolo numero uno sia per chi ha vinto sia per chi poi non è riuscito ad andare al podio. Una pole position, una scusate, una vittoria secondo me costruita come vi ho detto sì dal venerdì ma dalla pole position e dalle qualifiche del sabato che mai come in questa stagione per questo Gran Premio, per il Gran Premio sono state decisive. La costruzione della pole position è stata fondamentale e la bravura giustamente ha premiato il pilota madrileno. Una vittoria bellissima ma soprattutto meritatissima per un pilota che giustamente ora nelle gerarchie Ferrari è davanti all'Eclair, il compagno di squadra che a mio avviso sta un po' soffrendo le caratteristiche della vettura. Oggi l'Eclair, figlio anche di un'ottima qualifica, secondo me battuto seppur dal compagno di squadra, è stato sì sfortunato con il pit stop in cui è dovuto aspettare per motivi di sicurezza l'uscita proprio dal cambio gomme per permettere agli altri di passarlo perdendo qualche posizione e soprattutto tempo. E poi perché ha avuto un drastico degrado gomme favorendo l'ascesa delle mercedes che nel frattempo coraggiosamente avevano cambiato entrambe le gomme portando la mescola più morbida da quella dura a quella media permettendo poi il recupero. Un'Eclair che addirittura ha sofferto talmente tanto si stava per far raggiungere da Verstappen che li finisce appena dietro, quasi in volata. Una puntata monotematica perché è giusto così, è giusto soprattutto per la Ferrari. Onestamente non credevo nella profezia Russell, ovvero nel fatto che la Red Bull vincesse tutte le gare della stagione 2023. Credevo che prima o poi la Red Bull toppassero una tappa, non per errori che hanno commesso loro in qualifica come hanno fatto nel sabato del Gran Premio di Singapore. Hanno pagato una qualifica nella quale non sono riusciti ad entrare in Q3 e questo figlia anche poi di una strategia di gara abbastanza discutibile, soprattutto non nello stile Red Bull, ovvero quelle di rischiare, insomma hanno pagato finendo molto dietro, perlomeno addirittura fuori dal podio. La storia momentanea di questo mondiale, pensavo che, riprendendo il discorso di chi avesse vinto al posto di Red Bull per una volta almeno, credevo che perlomeno potevano essere in ordine di probabilità Aston Martin, o meglio Alonso, o Mercedes, o addirittura McLaren. Non avrei mai pensato che i primi vincitori dopo Red Bull di una gara fosse proprio la Ferrari. E questo, ripeto, secondo me è uno sforzo ulteriore a cui la Ferrari bisogna dare merito. Sventisce ogni previsione, appunto, su questo tema. È un pensiero mio, ma anche, secondo me, leggendo un po' qua e là, sentendo un po' qua e là, anche degli stessi addetti ai lavori di una Ferrari, che detronizza almeno il computo delle vittorie dei Gran Premi, la Red Bull, che, con Verstappen e le mondiali costruttori, rimane saldamente in testa e, con estrema certezza, non cambiano di un gradino le probabilità di vittoria. Sarà solo rimandata la festa per i titoli, perché ne sono due piloti costruttori mondiali, del team della lattina austriaca, che, tra l'altro, oggi ho anche bevuto prima del Gran Premio. Forse ha portato male a loro e bene alle Ferrari. Quindi, Sainz ha vinto perché non c'erano le Red Bull? Sì. Sainz vince per la disperazione della strategia Mercedes, che, per forza di cose, li hanno relegati di posizione, seppur con Hamilton hanno ottenuto un podio? Sì. Però, ragazzi, dov'è che ha meritato la Ferrari? Non ha vinto per demerite degli altri, ha vinto per merito suo, perché, come detto precedentemente, è stata formidabile in qualifica. E mai, come questo è un Gran Premio, poi vi affiancherò il motivo pilota, quasi pilota per pilota, ma come oggi è stato fondamentale. Perché, detto di Sainz, vincente, al secondo posto c'è Lando Norris, che, secondo me, non è stato abbastanza celebrato, non è stato abbastanza rimarcato, questo secondo posto. che è un secondo posto di grandissimo livello, figlia soprattutto del fatto che è partito a quarto, quindi in una posizione avanzata, comunque, sulla griglia di partenza. Un grande Norris che fa bene ad esultare e ottenere un altro risultato, secondo me, di grandissimo valore per un pilota che sta crescendo. Terzo posto per Lewis Hamilton, che è bravo nel rimontare sia da dietro, soprattutto Russell, e inducendolo, secondo me, all'errore. Tra poco parlerò di Russell. Un ottimo terzo posto per Hamilton, una Mercedes che ha migliorato, almeno dal punto di vista di più sostanzionamento, quello che aveva fatto vedere in qualifica. sempre soffre un po' in qualifica, ma in gara di mostro è vero un po' di più. Brucia, secondo me, un po' il fatto che i primi vincitori a spodestare Red Bull non fossero loro, ma bensì la Ferrari. Quarto posto, come detto, per Leclerc, che praticamente era un quinto posto, visto l'errore di Russell uscito fuori. Leclerc, la gara per la quale ho commentato poco fa, bravo all'inizio nel mantenere il gap, fare un po' da scudiero a Sainz, ha pagato di certo la strategia di partire con la gomma rossa, a differenza degli altri che hanno partiti, almeno quelli vicini a lui, con gomma gialla. E poi sfortunato, certamente, nella strategia per la quale sotto il regime di safety car ha dovuto aspettare, praticamente, per il doppio pit stop, dando giustamente precedenza a Sainz, che gli era davanti in posizione, in track position, come dicono quelli bravi. E poi, secondo me, un po' ha sofferto la gestione delle gomme. E, ripeto, secondo me, sta un po' soffrendo questo punto di vista. Quinto posto per Verstappen, che ha dovuto un po' ricostruire più di una volta la sua gara, ha fatto il suo, è stato un po' un disastro, forse non per colpa sua, la qualifica, che, ribadisco, mai come in questo weekend, è stato determinante, non entrare in Q3 ha sicuramente compromesso il podio di questa gara. Verstappen, che è stato aiutato, nel concludere così indietro, da una strategia sbagliata della Red Bull, che è stata poi costretta, partendo con le gomme dure, ad allungare lo stint, ad aspettare una safety car, una safety car che arriva un po' più tardi rispetto al previsto, e che, sì, un po' ha facuto delle cose, perché, avendo Goma Fresca rispetto agli altri, riesce a rimontare qualche posizione. Quinto posto, chiaramente Verstappen, vista la situazione in classifica, non può ritenersi deluso. Sesto posto per Gasly, che, secondo me, oggi ha fatto una ottima gara, lo aveva fatto anche Ocon, che è stato costretto a ritiro, brava, l'Alpine, settimo posto per Piastri, sfortunato ieri, perché stava facendo il tempo, ma Stroll, che lì era davanti, ha fatto un incidente, scatenando la bandiera rossa, e quindi, facendo terminare, anzitempo, la sessione di, appunto, di qualifica, fa anche lui un rimontone, dimostrazione che McLaren, oggi, aveva il passo, per essere competitivo, almeno per il podio. Perez, che sembrava guidare, anche oggi, una macchina diversa, rispetto al compagno di squadra, riesce comunque ad entrare in zona punti, ma oggi, bisogna fare un enorme applauso, soprattutto a Lawson, questo pilota, buttato giù dal letto, facendolo entrare in Formula 1, fa un nono posto, con l'Alfa Tauri, finendo ancora davanti al compagno di squadra, Zunoda, costretto a ritiro, neanche un giro, dopo quello che è successo anche a Monza, per lo sfortunatissimo Zunoda, nono posto, ha anche fatto un po' di lotta, con la Red Bull di Verstappen, un pilota di carattere, che secondo me sta dimostrando, di mantenere questo posto, ottima la scelta dell'Alfa Tauri, e poi decimo posto per Magnussen, una Haas, che ritrova un po' il sorriso, anche dal fatto che, è riuscita a portare in Q3, entrambe le macchine, seppur oggi solo una, è finita appunto, un po' sparita, la Williams di Albon, ma era abbastanza, prevedibile, due disastri, oggi si sono, sportivamente parlando, anche tutti questi risultati, si sono susseguiti, quello più clamoroso, è quello di Fernando Alonso, che oggi, ma come mai, per sue colpe, non è riuscito, ad entrare, in zona punta, anche lì una qualifica, discutibilissima, soprattutto per il timing, per cui è uscito nel fare, l'ultimo giro utile, per avere un tempo decente, è partito settimo, ha sofferto tanto, ha fatto sì, un attimo a partenza, ma poi un errore banalissimo, quello che costringe, ad avere 5 secondi di penalità, ci si mette pure, il box, con un pit stop lunghissimo, nella durata complessiva, 40 secondi, un Fernando che poi addirittura, fa un lungo, oggi, più sue le responsabilità, che del team, Aston Martin, che dopo questo weekend, esce con le rossarotte, visto che Stroll, non è addirittura partito, per via del brutto, incidente, che ha dovuto, che purtroppo, è capitato, al canadese, e poi Russell, perché oggi Russell, mi dispiace dire, è un pilota che amo, sia dal punto di vista, sportivo, ma anche umano, oggi Russell, secondo me, ha patito, la pressione, andando a sbattere a muro, la pressione, di finire al podio, la pressione, di avere la ghiotta occasione, non solo, di superare Norris, terminando secondo, ma di vedere, molto vicina, la vittoria, ma dietro, aveva un cagnaccio, che aveva, gli stessi colori, la sua macchina, e che soprattutto, quel cagnaccio, aveva un nome, un cognome, ovvero, Lewis Hamilton, che, un campione lo è, la pressione, te la mette come, secondo me, ha subito, e questo, che a Russell, manca, per poterlo considerare, un, top driver, ai livelli di Verstappen, ai livelli di Alonso, e chissà, ai livelli di Leclerc, che oggi, e da un po' di tempo, non sta dimostrando, non è stata la fine monotematica, per fortuna, non lo so, grazie, per essere atti sin qui, è stata una puntata, particolare, davvero, non mi sono scritto, preparato nulla, tutto a braccio, sono molto, molto contento, della vittoria, di Sainz, un ragazzo umile, un ragazzo, che in uno stato, di forma strepitoso, e che soprattutto, ha avuto il merito, di far terminare, questa striscia, vincende, che fa piacere, sicuramente, ai tifosi di Verstappen, e alla Red Bull, ma che stava un po', rendendo, la Formula 1, noiosetta, brava alla Ferrari, bravo a Carlos Sainz, riguardo a voi, vi invito, ad iscrivervi al canale YouTube, se non avete ancora fatto, ringraziandovi, per essere attesi in qui, e soprattutto, seguire, il podcast, su Spotify, grazie, e alla prossima, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada